Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, nel coro, nel coro dei frati, della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Qui oggi per raccontarvi le vostre testimonianze, sapete attraverso questo indirizzo di posta elettronica potete raccontare la vostra storia, come Padre Pio è entrato nella vostra vita, ma soprattutto quanto è stato importante il suo rapporto con lui. Sono tante le mail, sono tante le storie, i racconti, continuate a raccontarci, come ad esempio ha fatto Fabio, oggi ha 27 anni, però ci vuole raccontare qualcosa di significativo che gli è successo quando aveva quasi un anno. Ed è chiaro con il racconto dei genitori che lui vuole condividere questo. 2 giugno 1997, avevo poco più di un anno, racconta, mi sono ustionato la pelle del volto con un piccolo brick di acqua bollente che sarebbe poi servito per disinfettare il succhiotto che tipicamente usano i bambini. Con una manata accidentalmente roversciai tutto addosso. Ho quindi trascorso poco più di una settimana in ospedale a Brindisi nel reparto ustioni e mentre ero lì si avvicinò a mia madre un signore anziano che consegnava delle immaginette religiose in cambio di una piccola donazione. Questi consegnò l'immagine di padre Pio a mia madre e non volle nessun tipo di donazione perché la vide piangendo in lacrime. Quasi nello stesso momento nell'azienda dove lavora mio padre si recò un altro signore proprio per vendergli dei quadri ma erano quadri di padre Pio. Mio padre ne acquistò uno così data la situazione mia madre iniziò immediatamente a pregare padre Pio pensando che quello fosse un vero e proprio segnale, un segno. Chiese l'intercessione di padre Pio affinché mi aiutasse a facilitare la rimozione di quelle macchie che erano venute fuori sul mio volto. Saremmo andati a San Giovanni Rotondo almeno una volta all'anno per ringraziare padre Pio e così fu. Passarono molti anni e questa esperienza soprattutto grazie ai racconti dei miei genitori mi hanno segnato e hanno segnato la nostra famiglia. Diverse volte è capitato di sentire il profumo di rose, di sognare spesso padre Pio e in particolar modo un giorno quando ero studente universitario padre Pio mi disse fai quello che tu vuoi e non quello che gli altri vogliono che tu faccia. Recentemente sono stato anche a Pietrelcina dove ho visitato il suo paese natale ci racconta Fabio e mentre ero a Piana Romana nella sua casa di Campagna ho percepito, ho sentito un forte profumo di rose e questo l'ho percepito solo io ci racconta. L'ho interpretato come un vero e proprio ringraziamento per aver fatto visita al suo paese d'origine, ai suoi luoghi e soprattutto come un ulteriore conferma che padre Pio è sempre con me e con la mia famiglia.